Andrew Runic, allenatore del Finimpianti Rivarolo Volley Under 14, quarto al torneo Raimondo Lodico, che impressione hai avuto? È stata una bella impressione, siamo cresciute molto dalla prima giornata, da quando ci siamo trovati dal primo allenamento direi, sono migliorate tatticamente, sono migliorate come carattere, come tecnica, sono molto contento. Oltretutto di fronte avevate fior di squadra? Assolutamente, squadre molto difficili da incontrare, vedi la Folgore, abbiamo battuto 2-0 nel girone eliminatorio, poi abbiamo perso nella finalina 2-1, ma ce la siamo giocata tranquillamente. Progressi quindi le tue ragazze, ne hai già visti in questo inizio di stagione? Tantissimi, molti progressi, non li ho visti solo io, anche tutte le persone al di fuori, stiamo raggiungendo le migliori, speriamo di fare in fretta. Che cosa ti aspetti dal campionato che sta per cominciare? Il campionato sarà molto difficile per noi perché è il girone gold, quindi incontriamo tutte le squadre in teoria più forti e vediamo al girone di ritorno di essere, non dico pari a loro, però comunque vicino.